C'è l'atmosfera delle grandi occasioni sulle tribune, partita che si pronuncia interessante, speriamo di non essere smentiti, con me come sempre, Stefano Nava. Ben trovato Pier, eccomi, e un saluto agli amici all'ascolto. Ecco gli undici di partenza del Sassuolo. 4-3-3 il modulo scelto dall'allenatore per questa sfida, con due attaccanti di movimento, schierati larghi e una punta centrale. Occhio soprattutto alla rapidità degli esterni negli uno contro uno, potrebbero mettere in grande difficoltà i difensori avversari. Ecco l'undici della formazione ospite. Occhio alla botta! C'è stata la deviazione providenziale e sarà dunque corner. La tocca per il compagno. Prova a far partire il tiro. Conclusione che si è spenta abbondantemente sul fondo. I compagni lo rimproverano perché non ha passato il pallone. Ha visto uno spiraglio. Si è lasciato ingolosire. Sperava sicuramente l'ingoschotte. Una vittoria è quello che serve oggi per archiviare il discorso salvezza e per spostare poi l'attenzione sulla prossima stagione. I tre punti garantirebbero loro la partecipazione a questa. È uno specialista di questi inserimenti alle spalle dei difensori ma stavolta è scattato in anticipo. Joe Linton. Continua il tiki-taka alla ricerca del momento giusto. Duncan. Parata eccezionale questa che salva la porta. Piovono applausi dalle tribune. Giusto. Ha compiuto un vero e proprio miracolo. Alla messa in mezzo. Occasione. Vendel. Verani. Montolivo. Calderoni. Occhio a piazza. Crossa verso il centro. Sicuro il portiere. Buona la sua uscita. Piazza. La padula. Sale Montolivo. Hanno l'occasione per portarsi in vantaggio. C'era solo la potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato dai. Capita di sbagliare la coltita però davvero male eh. Duricic. Duncan. Duncan. Salta il difensore. Attenzione perché sono la caccia del gol del vantaggio e questa può essere davvero una buona occasione. E supera il portiere. E adesso sono avanti e cambia tutto. Tifosi in delirio. Potrebbero aprirsi nuovi scenari ora. Attendiamo la risposta degli avversari. Sassuolo che si è dunque appena portato in vantaggio. Canderoni. C'è l'intervento del difensore che spedisce il pallone in out. Montolivo. Piazza. C'è la rimessa con le mani. Goldaniga. Duncan. Ha spazio davanti a sé. Non riesce a tenerla in campo a merito anche della marcatura. Pallone che finisce in fallo laterale. Ottima la verticalizzazione. Ecco Bia Biani. Berani. Montolivo. Occhio a piazza. Può andare al cross. Difensore che interviene e libera l'area. Allontanano il pericolo. Montolivo. Ottimo il recupero. Passaggio non esattamente perfetto. Dan Canna. Riconquista palla intercettando la traiettoria del passaggio. C'è il tocco addirittura verso il portiere. Occhio a piazza. Palla che rotola via dopo un buon intervento. Toglian. Cerca la sovrapposizione. Bravo qui il difensore che legge bene questo pallone. Duricic. Duricic. Coglian. Prova ad aprire verso il compagno. Piazza. Quarto uomo esibisce il tabellone. Due minuti di recupero. O'Bianco. Può avanzare. Si porta in mezzo. Buono l'intervento del difensore che spazza via. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio e recupera palla. Può crozzare. Si chiude il primo tempo. C'è il segnale dell'arbitro. Comincia il secondo tempo. Bia Biani. Calderoni. Piazza. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. Perde palla. Preferisce giocarla sul portiere. Ecco Bia Biani. Prova la conclusione. Occhio alla deviazione. C'è il palo. Palla spazzata via. Azione interrotta. Possono recriminare contro la cattiva sorte per l'occasione di prima pareggio. Solo sfiorato. Un altro ottimo passaggio. Palla spazzata via dal portiere. Ottimi i suoi passaggi oggi. Goldaniga. Obiang. Cholian. Buono il dai vai. Ecco il tiro. E il portiere recupera il pallone. Una buona prima frazione di gioco che l'ho visto protagonista. Può essere contento per aver dato il vantaggio alla sua squadra. Vedremo se riuscirà a farne altri nella ripresa per chiudere i conti. Granqvist. Calderoni. Hanno perso palla. Cholian. Punta l'area. Duncan. Trova la botta. Parata super del portiere che vale come un gol. Un intervento di pure istinto su questa conclusione da pochi passi. Portiere sugli scudi. Nell'occasione di prima decisivo il suo intervento per impedire il doppio svantaggio di tenere i suoi in gara. Non è solo. Perami. Sono di nuovo in parità grazie a questa rete. Non mollano. Non ci stanno a perdere. Continuano a lottare su ogni pallone. C'è ancora vita in questa squadra, in questa partita. Lo hanno dimostrato grazie a questo gol. Devono vincere. Non hanno alternative. Qualsiasi altro risultato li condannerebbe alla retrocessione. Hanno pareggiato, dunque, 1-1. Campionato di calcio a protagonista della prossima sfida. Il Sassuolo in trasferta affronterà il Torino. E noi saremo... Locatelli! C'è la sola potenza in questo tiro. Mira completamente sballata. Ci ha provato, dai! Capita di sbagliare la compita, però davvero male, eh. Sostituzione in arrivo. Duncan. Cholian. O'Biang. Guadagna metri verso l'area. Ha spazio per il cross. Buono l'1-2. Prova! C'è stata la deviazione provvidenziale e sarà dunque corner. Occhio al corner. O'Biang. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. E il pallone è in rete. Sono avanti. Un vantaggio importante a questo punto della gara. E partita che resta apertissima. Un gol degli avversari rimetterebbe tutto in discussione. Un grande gesto tecnico. Grande freddezza. Enorme precisione. Sassuolo dunque avanti nel punteggio. Taxidis. Impegno in trasferta per loro nel prossimo match di campionato, come sempre su EA Sports. Continuano a girare palla cercando il momento giusto. Occhio a piazza. Occhio in mezzo. Può cercare il cross. L'allenatore della squadra di casa sta per effettuare cambi per la sua formazione. E secondo me è la scelta giusta. È il momento giusto, Piero. L'allenatore non vuole cale di tensione. Allora ecco questo cambio per conservare il vantaggio. Taxidis. Occhio a piazza. Ci sarà il fallo laterale da posizione favorevole. Ecco Bia Biani. Manca poco al termine. Attenzione a questo calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto. Palla in mezzo. Oh, non intervento nel difensore che spazza via. Spazio per il cross. Berami. Occhio al tiro. Sicuro. Intervento del portiere. Pubblico di casa capisce che questo è il momento. Qui si può fare la storia. E allora... Occhio al pallone filtrante. Prova la botta. Tiro al respinto. Ecco il tiro. Chance importante su corner per chiudere definitivamente la questione. Calcio d'angolo corto. Buono l'anticipo del difensore. Palla che termina fuori. Sarà rimessa laterale. Duncan. Azione che stava diventando pericolosa. Molto bravo il difensore. Quarto uomo esibisce il tabellone. Due minuti di recupero. Taxidis. Bia Bianini. Obiang. Match che finisce qui.